Dopo aver vissuto da solo per un lungo periodo per le strade, un gatto ha trovato una donna umana che desiderava come mamma. Per farsi notare, cominciò a farle visita e a graffiare la sua finestra ogni giorno. Pian piano, il felino si è avvicinato e ha conquistato il cuore della donna, finché finalmente lei lo ha salvato e adottato. Bart, così battezzato dopo l'adozione, sapeva di dover dare il massimo per convincere definitivamente la sua umana, che ha dichiarato. All'inizio, non si avvicinava a noi. Lo nutrivamo e Bart continuava a tornare ogni giorno e si sedeva su quel piccolo sporgere della finestra. Saliva e graffiava praticamente tutte le notti, ha detto. Inizialmente, Anna e la sua coinquilina non facevano entrare Bart a causa di un altro gatto in casa. La prima volta che ha mostrato un po' di interesse nei nostri confronti era alla finestra e la mia coinquilina ha allungato la mano e ha cominciato a accarezzarlo. Dopo quello, sembrava che volesse costantemente che fossimo fuori con lui ad accarezzarlo. Nonostante tutti gli sforzi di Bart, Anna non era ancora convinta di adottarlo. Per questo motivo, decise di seguirla ovunque. È stato allora che ha cominciato a seguirmi. Mi seguiva fino alla porta d'ingresso piangendo tutto il tempo. Aveva bisogno di amore e attenzione. Sapevo che non potevo lasciarlo solo. Dipendeva da noi, ha detto Anna. Forse Bart era spaventato o voleva fare il simpatico, fatto sta che quando Anna e la sua coinquilina decisero di farlo entrare, il compito non è stato affatto facile. Abbiamo preso in prestito una gabbia da un rifugio per animali. Ci sono volute otto ore per riuscire a catturarlo. Ma, una volta sentita la mia voce, sembrava riconoscermi immediatamente, ha raccontato la donna. Dopo di ciò, Bart ha dimostrato di sentirsi al sicuro accanto ad Anna e di essere felice di essere finalmente adottato. È dolcissimo, vuole sempre stare al mio fianco. Adora giocare e da quando l'ho salvato mi segue ovunque in casa. Sento di aver guadagnato un migliore amico, ha concluso. La storia di Bart, il gatto randaggio che ha conquistato il cuore di Anna, è un dolce racconto di amore e speranza, un esempio dell'incredibile connessione tra gli animali e le persone. Se ti è piaciuta questa storia, metti un mi piace al video e iscriviti al nostro canale. Ti lasciamo con altri due video che potrebbero piacerti. Se anche tu sei un appassionato di animali come noi, ti consigliamo di guardare gli altri video nel nostro canale e di condividere questo video con i tuoi amici. Scrivi anche nei commenti cosa pensi di questa storia. Grazie per aver dedicato il tuo tempo a guardare questo video. Grazie per aver guardato il video.